I dettagli dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una città specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pensi. Noi soppriamo valenti e non sbagliamo, noi potremo sfruttare le tue qualità. Darci solo qualche moneta e ti spiegano il corso per la città. Non vedi che ho un vero amore, non perdere lo corso di me, che non puoi te ne prenderai. Non capita a tutti i giorni di avere dei consulenti, i tesori che si vanno incontro per te.